Proteggere il 30% del patrimonio naturale mondiale entro il 2030 con l'obiettivo di migliorare e ripristinare ecosistemi preziosi come le foreste pluviali, le zone umide e le aree marine, vere e proprie culle della biodiversità ma anche validi strumenti per l'assorbimento della CO2 e degli altri gas clima alteranti prodotti dall'uso dei combustibili fossili come petrolio, gas metano e carbone con cui la specie umana sta destabilizzando i processi climatici naturali. Questo in sintesi il risultato della COP15 per la biodiversità riunita a Montreal in Canada, un obiettivo ambizioso considerando che oggi sono protette il 10% delle aree marine e il 17% di quelle terrestri. L'accordo prevede anche una politica di riduzione dei sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili. In Italia spendiamo tra i 30 e 40 miliardi l'anno in questi sussidi. Questo di Montreal è un risultato che non ha precedenti nella tutela del pianeta che condividiamo con altre migliaia di specie animali e vegetali che fino a oggi abbiamo più o meno considerato a nostra disposizione. Ora però bisognerà vigilare perché le parole seguono i fatti con un effettivo freno all'inquinamento e al sovrasfruttamento delle risorse del pianeta con cui stiamo mettendo in pericolo anche il nostro stesso benessere.